ragazzi siamo tornati io sono papi oggi giocheremo a fifa 24 e finalmente abbiamo fatto l'aggiornamento così abbiamo i giocatori reali, infatti guardate qua c'è l'indosco, prima c'eravamo ancora lo zano non c'eravamo a caciusto, metti tre minuti, allora andiamo a fare le istituzioni comunque togli al zambio e metti a caciusto però tieni il banchino, tieni il banchino, no tieni il banchino, al posto di chi? è al posto di... di che ne so, però così corta la banchina e metti al posto di Juan Jesus, no al posto di Juan Ligio, al posto del portiere, e non c'è un portiere di riserva, se si fa male il portiere di chi vai? ma è un portiere, va bene così dai, metti a Mario Ligio a posto di... metti a Mario Ligio ok poi vedi su, vai su, vai su, vai sulla squadra, metti a Mario Ligio a sinistra a posto di Olivero, a tutta la vita e lo mettiamo pure in banchino Olivero, ovviamente è a banchino a posto di Mario Ligio ok poi possiamo provare ad essi io comincerei così Natane Raccomani al centro, Natane Raccomani lo mettevo anche in Arcamani? Sì, ovviamente sì. Ok, puoi partire così, vai. Noi arrivati tutti più forti, certo, va bene. Mettiti in questione, ciò che metti tre minuti. Sì però, dove va quattro? Cinque. Eh, trentasei. Cinque, vai cinque. Quattro va bene. Quattro. Direttante hai messo? Vabbè. Contra chi ci chiamo? Empoli. Perché ragazzi, noi andiamo la prossima volta a vedere l'Empoli, facciamo pure la live reaction. Con lo stadio? No. Ma facciamo sempre sul... Ma questo è il Maradona? Sì. Dove andiamo domenica? Domenica andiamo a vedere la partita. Papà, facciamo finta di niente, ma questo in realtà è il salio olimpico di Istanbul. Perché? No, non c'è il Maradona. Allora, facciamo finta di per il Maradona. Aspettiamo un altro fuoco perché negli elezzi devi inquadrare. Ma dove sta il Maradona? Se vedi il Maradona, questa è la vera classifica. Noi siamo quarti in classifica a 18 punti in questo momento. Ma vinciamo arrivando a 21. Con cinque vittorie e tre pareggi. Che figo, stai facendo le formazioni. Comunque, l'ultimo aggiornamento che abbiamo fatto, fatelo anche voi. Anche le visite delle persone sono più fedeli. Io sono il giocatore della Lazio, vedi? No, sono l'Empoli. L'Empoli vuoi dire? Allora, io dico il nome e tu dici il cognome. Io dico il nome e tu dici il cognome. Sei pronto? Diretto o non lo dico? Ah, ho cominciato la partita. Non ho capito perché non lo faccio in Napoli? Mi scemo. Eccoli qua. Mi sono perso. Mi sono perso. Victor. Molitano. Guarda. Ma Matteo. Mi sono perso. Ma che hai già fatto venendo? Ah buona. Stai, schifo. Schifo, schifo. Inizia. Te ne ho pure nella palla. Ma perché? Non sai che devo fare sempre la tua palla? Perché mi diverto. Però non volevo tirare la palla, volevo tirare la portiera. Sì, però tu perdisci. Ma quanti fatti tuoi? Siamo più forti. Ma perché devi fare queste palla? Siamo più forti. Ah, vedi? Vedi? Siamo più forti. Ma io ho questa palla che vado a segnare. Oh, rigore. Ma che rigore? Dai Gianni. Noi dobbiamo partire avvantaggiati perché se per esempio ci danno la punizione al novantesimo siamo 0-0 e tu ti metti a fare quelle cretinate, perdiamo. E tu che ci fassi la palla davanti al portiere? Ne vogliamo parlare? L'ho presa. L'hai presa e ti stai facendo a morire? Non devi fare scivolare. Devi fare il contrasto. Oh, metti di mezzo, metti di mezzo, vai. Cross, cross, con il quadrato. Con il quadrato, papà. Passaggio, che ne so? Il quadrato forse era meglio. Però mi devo allargare un po'. No, no, andava bene così. Figlia, va così, vedi? Bravo, vedi? Ma immaginiamo. Non facciamogliela passà. Figlia, bravo. Grande. Vai, ottimo, vai. Madonna, si bella. Io so questo. Segui il gioco. Chi è? Tu ha? Cross. Ma non! Ti ho dato la palla mostrosa. Maccia miseria. Vabbè, non siamo giocati. Vai. Vai, che buono, vai. Fuori gioco. Non affoggiare. Tu ha? Cross. Perché stavo pensando. Guardi la tua. 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 Fatti tu. Poi ci voleva un passaggio di una maglia. È colpa tua per cercare il quadrato sbagliato. Mamma, 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 tu. Non devi guardare però, Jessica. E non devi guardare. E non devi guardare i gustanti. Ma devi riparare. Mamma, mi ricordavo guardare il passaggio di quale rifiltrare. Ah. Ora, ora. Ora, su. Tira. Sì. Sì. Ora, sei. Dovevi. Che hai segnato, Piotra? Piotra. Ottimo gioco. Salta salta salta. Grande piota. 1 a 0 a Napoli. 1 a 0 a Napoli. 1 a 0. 1 a 0. A Istanbul. A Istanbul facciamo un'indicazione a Napoli. Oh! No. Ti ho fatto pure filtrante. Ti ho fatto un passaggio buono. Ti ho fatto un passaggio buono. Si, però ho fatto filtrante. È una fitta trovantola. E stava per far la scelta donna a Napoli. Chiudilo. 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 Ora, tu, svegliati in mezzo, vai che sei il più forte, sei più forza, campione, sensora, bambino. Tu la, tu la, tira. Ma quando sei nel cajuste? Segnerebbe forte. Qui, anche se è lontano. Eh, va buono. Eh, qui ce l'ha, non ce l'ha come le parti. Ma è grande intervento, va buona, va buona, va buona, non sbagliare, non sbagliare. No però, no però, no però, no e no, presa, 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 buona, 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 buona. Oh, io li metti in mezzo. E fai. Fai, no, punizione, ammoniscilo, punizione, semplice munizione, tira. Ah, io. Chi la sa tirare? Io la sa tirare però. Ma non la tiri tu. Ma la tiri io. Ma che cos'è? Ma dove, ma ce l'ho tirata addosso, ma nasce il mondo del demone. No, guarda, devi caricare. Ma chi la sa fare? Eh, me la faccio a me. E che ne so, guarda da me? E mi dai il giovento. Eh, va buono, che facciamo? Tira Renzo. Vai, segna, vai, in mezzo. Tira Renzo. Vai, segna, vai, in mezzo. Tocco dentro. Ma non... Sì! Vabbolo, che gol. Tira Renzo. Altra scuola, rivediamocelo questo, alta scuola. Perché alta scuola? Vediamolo che resta alla fine. Vabbè. Quanto fintor siamo? 34. 34, ci sono 2-0? Sì. Allora, sei vera conuzione, c'è una sola scuola in campo. E noi una volta abbiamo perso una zona in casa con il demone. Si è la vista la nostra porta. Si è la vista. Si è la vista. Una volta sì. Ma, come ho. Ma, come ho. Quasi tirato pure. Cross. Ora, che trante ore? Io sto al mezzo. Eh, sì, riesco a pigliarla. No! Ma che è passata? E che vuoi? Ho questo il partiere. Annaccia il demone. Ma c'è più un cross. Ma che segna, guarda. oh ma non può uscire però no ha letto in mezzo fratello tu ha che schifo di grosso che schifo di grosso la presa meriscia il portiere azzurro però dell'Empori non del Napoli Napoli e 76 calcio presa bravo non sapevi che hai fatto questo no bene qua no che bomba non ci pensa su è la scarica in porta che schifo di grigia no che vada a cnice ci voleva un po' di cnice per te di moral più non recupera 46esimo abbondante che finita vediamo le statistiche no non c'è quella che non fai fare no io avrò la fine non vuoi dire il processo parla cosa ha iniziato o no no va bene vai a gestione squadra non facciamo cambi andiamo a gestire un po' la squadra caciusto un po' sotto tono toglie lo mette a zanna molto sotto tono mette a zanna al posto di caciusto anche o si meno si vede un catavere mette a simeone si vede finiamo una toccata una volta buona si vede finiamo e infatti non ha fatto un altro gol vuole volentano eh pure volentano volentano pure un po' sottometta l'industria mettiamo già ci vediamo sì perché ce l'abbiamo sempre fatto ma di cominciare la schede va bene Natanna va bene osticato ma la difesa che la tocchi a fare non stanno toccando una volta vai puoi giocare teniamoci qualche sostituzione nel caso ma si non arrivano in 10 mario si è una sostituzione se quattro si fa male tu ha la donna che è palla che ti ho dato scaricami in bordo scaricami in bordo no non ti no non ci credo ma poi non è giusto perché correva più veloce di me ma ti faccio la scuola è normale se c'hai tutta la palla qui c'è la palla va più bene si sa pesa? soltanto perché pesa la palla? no perché uno ti vede che si deve pensare i piedi con il movimento ho sbagliato io mannaccia si perdono queste palle dovevo saperlo queste palle si perdono eh ma non c'era nessuno quella palla ho capito qui gliela davo e appuntano pure ballano tutto dovevi fare solo un cross dietro ci pensate al potere dovevi passare indietro queste palle così è meglio passare indietro e non perdere la palla ci mette una pezza e ferma tutto bella giocata io ci sto eh sui mezzo sui mezzo ma l'onda che è parata è parata che ha fatto hai detto quale tu non vuole hai visto? si addirittura si per la troppinare ma la vedi perché non devi puntare vicino ecco perché punto non andare perché cent'e volte punti troppo vicino e c'è te l'altro è infatti così capisci a volte l'altro più me l'ha fatto tutto al contrario perci l'ha tirata così bella bella entro scarico ma stavo lì l'ha fatto quella giocata guarda l'ora di capo non gli fai tirare no la prossima tirata tu la tiri troppo fuori invece ma come si va a schiaccare acqua fuori tu ha bene il tattere è venato sulla fascia ok all'accelerazione madonna mettiti in mezzo tu ha perché ha tirato ho sbagliato ho sbagliato a prendere idiota ho più vado passando per un altro che stupido che stupido ho fatto quella di scena sulla fascia mannaggia devo premere il quadrato premuto oh a x non vuoi ma non sbaglio ho tolto e me la guarda prendo sulla fascia e prendo la fascia no bene che go che go 4-0 wow wow non si riscassiamo stiamo riscondando va via va via ci stiamo provando di schiaffida alla fascia che l'altra volta abbiamo fatto con una z doppietta di chi? di piota? si bene ho pure presa è passata troppo tardi ma dovevo fare un super volo però un assist con un grosso qualcosa di potente dovevo fare un'altra fase bravo da me la che poi da scena sulla fascia bravo eccomi no 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 capole ciao oh e a polindi egli la città la città la città la città quando te la fai a tirare a te che me l'ho tirata io te l'ho detto è una volta un'altra volta tu mi tratta a me no ma non la tirare mi importa che non la sai tirare lo so come è tira in porta non la sai tirare Ma ve lo vedo io Ma è passato Ma non lo devi fare Io te l'ho detto che non si batte Il punizioso batterito E se non l'imparo Ma tu lo devi fare così Devi spingere il primo tasso Se non la tira troppo bassa No No 4 a 1 Empoli No Ho salvato Bene Bene Presa Ma chi c'è Sei tutto il campo E io quello glielo ho dato Vai sei solo Guarda che tutto il campo Sei solo Sei solo Sei solo Io sto qua No Già l'infero quando stiamo al 32esimo Finita No va a finire 25 a 0 Non sia 4 a 10 Come 6 minuti di fare un gol Si può fare Ma io stanno fischiato I giocatori di così Mi dà un fisco Vai che palla che ho dato Sfondalo Metti la potenza No Non ci credo Come hai fatto a non tirare Io Non poteva essere l'occasione Mi chiedeva su 5 a 0 Oh Vai Tira Tiro io C'ho qua Sì Sì Però poi ero stavola Stava 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 un minuto va bene grazie non c'è niente bene così no la c'è finito via e finisce qui una partita dominata in lungo e largo per tanti versi e tanti tratti dominata ragazzi se il video vi è piaciuto se no non me li faccio vedi adesso qui insomma per me vediamoci non ho capito li fai da qui dobbiamo vedere ah dobbiamo vedere tutti gli arazzi e questo è il primo gol questo è il primo gol si che gol che gol fatelo vedere alle scuole calcio questo gol addirittura ma ogni volta che fai un gol bello devi dare un gol bello perché è un gol bello con un tira a volo da fuori aria di Lorenzo che ne manca un attaccante è un gol bello porta una bella parata questa qui ma che bella parata è un po' passata quello è un po' passata qua il portiere si è ando inventato proprio però ce l'avevi in mano sul palo suo grande gol di Criccia questo è un bel topo di destra è un po' passata qua ha fatto una bella questa era difficile questa era molto difficile beliscia beliscia bam oh la porta si è piegata visto si è alzata la porta la potenza ci manca l'ultimo gol una palla rubata guarda questa la dovevo dare ma come te la davo se io sto davanti al portiere ma ti pare che non tiro di prima si però per esempio tu quando stai vicino al portiere me la davi sempre ma come si stava un po' più là così ma così no se siamo troppo attaccati noi stiamo più lontani da me ma boh ragazzi 5 a 0 aspetta mannaggia abbiamo fatto una foto da provare così no 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 non lo fai così no lo fai così perché tanto gli sparerà tutto quanto il risultato poi e allora quando la facciamo va bene facciamo un'altra se il video vi piacere ecco qua questo qua vince no no ma che se lo sparerà tutto cominciamo a salutare e poi facciamo un po' eh che favore non me ne importa quindi non me ne importa il tempo ti fa bene così e che qui fai con la così la foto eccola qua con le informazioni ok ragazzi vi è piaciuto iscrivetevi al canale sempre 096 metteteci un bel like ci vediamo al prossimo video ciao da papi ciao a tutti ciao 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 ciao